Si metteva nel letto. Io sono cresciuto con i miei nonni e una domestica che si chiamava Carmela, che aveva la barba. Il sabato pomeriggio mio nonno diceva a Carmela vai a prendere la federa. Carmela andava a prendere una federa e si metteva nel letto di mio nonno, che le infilava la federa in testa. Il viso di Carmela gli faceva schifo, ma non il suo corpo. Commento. Le vittime di ogni forma di schiavitù sono state a loro volta carnefici di altre forme di schiavitù. È la grandiosa giustizia della struttura matematica della realtà.